Sulla scia degli ultimi video dedicati all'inferno E prima di affrontare argomenti più sereni Ho deciso di approfondire il culto di un'antica divinità Che è spesso associata al diavolo nella tradizione cattolica Mi riferisco al dio Cananeo Moloch Che si è poi diffuso in vaste aree del Medio Oriente e dell'Africa settentrionale Ma che presenta nella ritualità connessa Anche molte similitudini con le antiche sanguinarie pratiche In uso presso civiltà precolombiane In verità ciò che mi ha fatto decidere di dedicargli questo video Non è tanto il legame fin troppo esplicito con il demonio occidentale E dunque con l'inferno Ma il fatto che l'ombra del Moloch spesso aleggia Nelle peggiori cronache di fatti che riguardano l'attualità Dalla sparizione di bambini Ai riti di sacrificio di sangue Con implicazioni di sette sataniche Ed altre orribili connessioni al traffico di organi umani Vale dunque la pena ad entrarci nell'indagine intorno a questo sconcertante Spaventoso antico culto Lungo un itinerario anche insolito E che forse vi riserverà qualche sorpresa Le prime tracce del dio Moloch Come vi ho accennato Si trovano presso il popolo dei Cananei Cioè gli abitanti di Canaan Che occupavano un'area piuttosto ampia Che corrisponde oggi alla Palestina Alla Siria e al Libano Per Cananei si intendono i predecessori Che occuparono quei territori prima degli ebrei Ed anche però l'eterogeneo popolo di naviganti Chiamati Fenici I primi resoconti storici sui Cananei Li abbiamo grazie ai Babilonesi Agli Assiri e gli Egizi E le prime tracce di questo popolo Risalgono intorno al 2500 avanti Cristo Per prima cosa chiariamo che spesso la figura di Moloch Si sovrappone a quella di un altro dio Cananeo Che è chiamato Baal Ma in realtà sembra trattarsi di due differenti divinità Poiché quest'ultima è anzi opposta al Moloch Dato che rappresenta la pioggia fecondatrice Di contro al fuoco riferito al dio Moloch Però un legame tra i due esiste Ed ha la sua ragionevolezza Poiché nei primi decenni del XX secolo Gli archeologi scoprirono un santuario a cielo aperto Identificato come i luoghi biblici Del sacrificio che sono chiamati Tofet E questo luogo conteneva migliaia di urne Zeppe di ossa bruciate di bambini Nel 70-80% dei casi I resti appartengono addirittura a neonati O a feti non del tutto sviluppati Ma sono stati trovati anche resti di bambini Dell'età di circa 5 anni Trovarono anche diverse iscrizioni di radice semitica Vocalizzate nella parola Moloch Che appare anche in molte steli cartaginesi Questa parola non disegnerebbe un dio Perché a questa parola si assegna il significato letterale di offerta Ed è quindi plausibile che si disegni un rito Che era ufficiato Guarda caso Proprio al dio Baal Qualche studioso è giunto persino a negare l'esistenza di Moloch Mettendo in discussione le conoscenze sulla storia dei Fenici E le stesse formazioni bibliche Un'altra prova che supporta il trattarsi di due divinità È che il termine Baal nelle lingue semitiche Sembra piuttosto essere un epiteto assegnato alla divinità In quanto proprietaria o potretrice Così per esempio Baal Zebub Significa signore delle mosche Che è l'equivalente del nostro Belzebub Il confronto tra gli antichi resoconti dei sacrifici E la moderna ricerca Complica ulteriormente il caso E ad oggi si disquisisce sul grado di efferattezza Sul fatto che i poveri bambini fossero dati alle fiamme da vivi oppure morti Tuttavia Sebbene abbia un senso ipotizzare un sacrificio di fuoco Per invocare la sua controparte di elemento naturale Cioè la pioggia Di Baal in questo caso per nutrire i raccolti Se allarghiamo la visuale al più vasto panorama dei sacrifici umani dell'antichità In molti casi l'esaltazione e l'enfasi del lato cruento Mi fa propendere per altre spiegazioni È infatti scritto che presso i Cananei Nel santuario del sacrificio posto nella valle della Geenna ai piedi del monte Sion Le vittime venivano sgozzate prima di essere date alle fiamme In un fuoco che era costantemente acceso in onore di Molok Il medesimo culto fenicio è riportato dai greci al dio Kronos e dai romani è riferito a Saturno In entrambi i casi la tradizione vuole che gli dei Seppure in una lettura che è anche metafora del tempo Divorrassero i loro figli A questo proposito si narra che spesso fossero uccisi proprio i figli primogeniti E di questo fatto troviamo anche la nota vicenda biblica di Abramo Quando Dio gli comandò di sacrificare il tanto desiderato e unico figlio Isacco Ai primigeniti toccava questa tragica sorte Perché vi era la credenza, che io giudico quantomeno stravagante Che questi diventassero degli spiriti protettori della famiglia che li aveva trucidati Personalmente, riflettendo sulla questione Trovo più verosimile che il sangue ed il fuoco Siano abbinati come forze attive Per risvegliare le potenti energie del sottosuolo E con ciò il legame di entrambi con la terra È divulgato in un'ampia letteratura dei miti Trasversale a quasi tutte le culture Ma se vogliamo trovare conferma di quanto dico Di quanto sostengo Senza perderci in complicate analisi simboliche Da Efesto a Caino Possiamo guardare agli schietti culti tribali delle popolazioni africane Dove, in pressoché tutti i riti di evocazione di bassi spiriti elementali Sono presenti il sangue ed il fuoco Ai quali possiamo inserire in aggiunta Spesso L'energia sessuale Per mezzo di danze frenetiche O di ancor più espliciti accoppiamenti La tradizione ebraica Sì, da vecchio Altre scoperte archeologiche Testimoniano la diffusione in gran parte dell'area del Mar Mediterraneo Di luoghi di sacrificio Con santuari rinvenuti anche in Italia Per lo più in Sicilia e in Sardegna E' oltremodo interessante Riscontrare altre tracce Nella tradizione greca Che dopo il riferimento a Cronos Che divore i suoi figli Per non essere usurpato Ci portano alla leggenda Del Minotauro Segregato nel labirinto di Knosso La grande civiltà cretese Ha rappresentato per il mondo ellenico Il seme culturale Forse è proprio l'isola di Creta L'Atlantide Descritta da Platone E' certo che il complicato e vastissimo palazzo di Knosso Produsse nell'immaginazione dei greci L'idea del labirinto E che le ricche decorazioni di tori Portarono gli stessi Ad immaginare il mostro chiamato Minotauro A questo proposito Esistono diversi fattori Che ci permettono di associare A questa creatura Al dio Moloch La civiltà cretese E' contemporanea a quella cananea Cioè gli albori della civiltà cretese Li collochiamo intorno al 2500 avanti Cristo E come i fenici furono un popolo di grandi navigatori Il toro era adorato Perché simboleggiava la fertilità E la forza della sfera maschile Anche se non possiamo escludere Che il culto fosse la trasformazione Di un singolare rito ereditato dall'India E di cui potremmo accennare In relazione all'episodio di Passife Moglie del re Minosse E madre del Minotauro Fecondata dal toro sacro A Poseidone E che si era nascosta Nel grembo di una finta vacca Non possiamo escludere Che a Creta Si svolgessero dei riti Dedicati al toro Nel quale i sacerdoti Indossavano delle maschere All'usanza egizia Raffiguranti l'animale L'episodio più controverso Della vicenda E' che questo animale Erbivoro Notoriamente Nella sua mostruosa mescolanza Umana Scaturita con Nel Minotauro Si nutrisse di carne umana Ed esigesse dei sacrifici Di fanciulli Il rapporto con il Moloch E' ulteriormente evidenziato Dal fatto Che spesso questa divinità E' rappresentata cornuta Con il capo taurino Questi indizi Potrebbero quindi Secondo me Accreditare il fatto Che il culto a Moloch Si fosse propagato Con un'estensione Molto maggiore Rispetto a quanto Riportato Dalle fonti storiche Come è accennato All'India Anche se il toro E' un animale Di indole aggressiva Ed esuberante Dalla grande forza Non lo possiamo considerare Una belva feroce In quanto Alla sua Controparte Femminile La mucca E' nella tradizione Induista Il simbolo Della mansuetudine Anzi Tuttavia Questo Docile bovino E' doppiamente Collegato Al culto del fuoco Da un lato Poiché Cinque delle sue sostanze Vengono bruciate Durante le offerte Agli dei E sono Il latte La cagliata Il burro L'urina E gli escrementi Ma anche perché Il rito Chiamato Vaitarani Prevede che la vacca Scorti il morente Nel regno dei defunti Ma Vaitarani E' anche il nome Del fiume di sangue Sterco Che segna il confine Tra il regno Dei viventi E quello Del dio della morte Yama Che è poi Anche il re Dell'inferno In questi rituali E' probabile Che anticamente L'animale Venisse sacrificato Ma L'aspetto Tonio E' nuovamente Presente Nei riti Di sepoltura Praticati a Bali Secondo le forme Dell'induismo Più arcaico Dove i corpi Dei bramani Defunti Vengono sigillati All'interno Di casse Scolpite A forma Di vacca E in seguito Date alle fiamme Se oggi L'induismo Adotta Offerte Sacrificali Innoque Sappiamo pure Che nei tempi Più antichi Un terribile Rituale Di sacrificio Umano Prevedeva Che la donna Rimasta Vedova Si buttasse Viva Nella pira ardente Del marito Defunto Dunque Anche in India Troviamo Il sacrificio Umano Che poi La tradizione Ha mutuato Nel tempo In forma Menocruente Di offerta Alle divinità L'aspetto Del molo Che assume Dei caratteri Iconografici Come abbiamo visto Quello associano In parte Ai tratti Taurini Tuttavia È anche Rappresentato Alato E con caratteristiche Di dragone O comunque Di rettile Possiamo citare La curiosità Che anche in natura È presente Un piccolo Sauro Che la scienza Ha battezzato Moloch Orridus O diavolo Spinoso Nonostante L'aspetto Terribile Perché Irto Di escrescenze Di Corna Sembra Essere Un'innocua Lucertola Vorace Divoratrice Di insetti Ma che misura Solo qualche decina Di centimetri E popola I deserti Australiani Le sembianze Di questo drago In miniatura Ci danno L'occasione Per collegare I sacrifici Al dio Moloch Con altre pratiche Sacrificiali Che appartenevano Alle civiltà Precolombiane Gli spagnoli Che per primi Ebbero contatti Con gli aztechi Dicono Chiaramente Nei propri scritti Che il sacrificio Umano Era largamente Praticato In tutta la Mesoamerica Il popolo Asteco In particolare Considerava il sacrificio Come un rituale Necessario Che alimentava Addirittura L'universo Stesso Lo sosteneva Nel rituale Sacrificiale Oltre a numerosissimi Animali L'uccisione Di un uomo Rappresentava Il più nobile Livello Di offerta Alle divinità Era talmente Radicato Nella cultura Che veniva praticato Anche l'autosacrificio In forma di offerta Di sangue Tramite ferite E salassi Autoinflitti Paradossalmente Rispetto All'opinione Diffusa Il dio Serpente Quezacoatl O detto anche Il serpente Piumato Divinità La quale Ho dedicato Il video Numero 11 Non esigeva Sacrifici umani Ma Esigeva Sacrificio Di piccoli Uccelli Colibri E di farfalle E' molto interessante Constatare Invece Che i sacrifici umani Erano dedicati Soprattutto Alle divinità Di Wewe Teotl E Tlaloc Che Rispettivamente Sono Il dio del fuoco E il dio della pioggia Torniamo quindi Inaspettatamente Per un'altra strada Molto lontana Al binomio Alla sovrapposizione Del dio Moloch Con il dio Baal Della tradizione cananea Gli Astechi Avevano Differenti procedure Di sacrificio Una più terribile Dell'altra La frequenza Di riti Ed il numero Degli immolati Era spesso Altissima Tant'è che si riporta La notizia Di un rituale Durato Quattro giorni Al termine Del quale I sacerdoti Uccisero Oltre Ottantamila Persone Anche in questo caso Troviamo Una singolare Consonanza Con il cosiddetto Olocausto Con il quale Nella Bibbia Si intende appunto Un sacrificio Di massa E che poi È entrato Come definizione Tristemente in uso Riferendosi Al capitolo Della Shoah Dopo questa breve Perlustrazione storica Sul sacrificio umano Possiamo spendere Alcune riflessioni Su questa pratica Che taluni studiosi Contemporanei Affermano essere Ancora diffusa Ai nostri giorni All'interno Di sette sataniste E di organizzazioni segrete Nel mondo Compottista Forse i più Ricorderanno i fatti Che furono filmati Una decina D'anni fa Segretamente Nel cosiddetto Bohemian Groove L'inquietante Bosco boemo Che si trova In California Frequentato Da eminenze Del mondo Della politica Membri Dell'oscura Organizzazione segreta Chiamata School and Bones E in tempi Menorecenti Dai membri Del gruppo Razzista Del Ku Klux Klan All'interno Di quest'ampia Foresta In prossimità Di un lago artificiale Si eleva una colossale Statua di una civetta Che è associata Al culto di Moloch E c'è qualcuno Che afferma Che sull'altare Posto ai piedi Di questo idolo Vengono sacrificati E bruciati Tuttora Adulti E bambini Un'altra Notizia Della recente Cronaca Anch'essa Almeno strana Se non proprio Inquiettante Vede l'esposizione Di un effigie Degli omolog Proprio davanti Al Colosseo A Roma Luogo che fu sede Di sacrifici Sanguinari Nelle lotte Tra schiavi Gladiatori E di sistematiche Uccisioni Di cristiani All'epoca Delle persecuzioni L'esposizione Della statua Al pubblico Funge da richiamo Pubblicitario Per una mostra Che è dedicata Alla cultura Cartaginese Ma non ha mancato Di provocare Reazioni Nel mondo cattolico Va detto Che tale opera Ripropone Il dio Moloch Della versione Cinematografica Del finca Biria Che venne realizzato Nel 1914 Negli studi Cinematografici Di Torino Studi che Erano anteriori Rispetto ai più noti Studi romani E che fu Il primo Importantissimo Colossal Italiano Nella storia Del cinema Forse è proprio Per questo Che a Torino Si trova Il più importante Museo del cinema Italiano E questa statua Solitamente È collocata All'interno Di questo Museo del cinema Ma la scelta Di esibire Permanentemente Il dio Moloch Nel museo Svela un'altra Strana coincidenza Quando scopriamo Che l'edificio Del museo La Mole Antonegliana Fu inizialmente Costruita Per ospitare Una sinagoga Della comunità Ebraica Della città Il dio Moloch E la sinagoga Ci riconducono Qui alla nuova Discussa Accusa Rivolta al mondo Ebraico Ripetutamente Accusato Nel corso Della storia Di praticare Sacrifici umani Specialmente Di bambini Cristiani Ed è riportata Da una nutrita Letteratura Storica Negli ultimi tempi Il tema Del sacrificio Rituale Di bambini E' tornato Alla ribalta Con lo scandalo Statunitense Del pizzagate E la rete pedofila Di Epstein Scandalo Che si è abbattuto Violentemente Anche sul mondo Di Hollywood E la sua industria Cinematografica In questo caso Si è fatta Largo l'ipotesi Che il sacrificio Di bambini Serva per produrre Un'abominevole droga Consumata Dall'elite criminale Questa droga E' chiamata L'adrenocromo Cioè Si tratta Di sangue Adrenalinizzato Che viene estratto E consumato Dalla vittima Che è stata Violentemente Terrorizzata Prima di Della sua uccisione Forse questa Aberrante sostanza E' la medesima Che gli antichi Chiamavano oro liquido Per la particolare Traslucenza Che il sangue Acquisisce Ossidandosi All'aria Questo fatto Forse Ci può spiegare Perché il mostruoso Moloch Venga rappresentato Incatenato La sua presenza Ha forse l'unico scopo Di scatenare Il terrore E provocare Il flusso Di adrenalina Nelle vittime Ma la sua furia E' controllata Dalla sua prigionia Ed il sacrificio Verrà da esso Consumato Solo Al compimento Del rituale E al tempo Debito Siamo liberi Di interpretare La figura Del diomoloca La stregua Di una metafora Che svela I nostri impulsi Abietti e feroci Che dimorano In ciascuno di noi Oppure Possiamo immaginare Che forse Questo terribile Essere Se è esistito Davvero Oltre i confini Della fantasia Chissà Se qualche Oscuro Antro roccioso Riverbera Del mugito Rabbioso Del mostro Imprigionato E se quest'essere È più che un dio Terribile Non sia invece Il servo Di ancor più Terribili stregoni Vi lascio Alle vostre Riflessioni Vi mando Un saluto E alla prossima Un saluto Autore dei sorrisi